Ehi Foxy, ho una challenge da... Una challenge da... Crazy, una challenge da... Crazy... Propormi! Sì, che challenge hai da propormi? Amico mio, preparati perché oggi faremo una... Una... Crazy, stai bene? Sì, assurda! Ci sfideremo nella pausa! Ho capito! Hai capito allora? Sì, ma adesso sbloccati... Foxy! Foxy! Ah sì, ho capito! Sì, allora Foxy! Ma che cos'è questo baccano? Ma cosa stanno combinando Crazy e Foxy? Vado a vedere! La challenge quindi sicuramente... Sì, ma cosa stai combinando? Pausa! Bene, poliziotta del quartiere! Sei la benvenuta nella pausa challenge! Va bene, scherzo! Ti riattivo! Ma che cos'è questo? 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 Non mi piace niente! Aspetta! 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 Un secondo che ti spieghi, ok? Sì, ma sotto! Sì, un secondo! Sì, un secondo! Pausa! Bene! E che la sfida abbia inizio! Sta tramontando il sole! Ma cosa stai facendo? Bevo un po' d'acqua, poliziotta! Oh, non l'acqua! Staaaaaaaaa! Così impari! Ciao! Poliziotta! Me la pagherai! Vieni qua! Foxy, sei pronto da andare al supermercato? Sì, ma io non so dov'è il supermercato! Ah sì, giusto! Neanch'io! Aspetta! Chiedo informazioni a quel signore! Oh! Aspettami qua, eh! Sì! Vado, vado, vado! Arrivo! 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 Salve signore! Sì! Volevo sapere le informazioni stradali per andare al... Pausa! Dove? Al supermercato! No, perché io e il mio amico... Non siamo di qua! E quindi volevamo... Sapere quale sia la strada per... Ah, no, no, no! Ah, no! Ah, no! Ah, no! Arrivederci! Al supermercato! Scusi! Una sola informazione! Ah, testa male! Arrivederci! Aiuto! Ehi, Foxy! Ascolta! Aiutami! Sai dove sono i miei Chupa Chups? Nei tui Chupa Chups? Le mie lecca lecca! Ti aiuto! Che non ce la sto più... Non ce la sto più facendo! Sì, certo! Ti aiuto io! Pausa! Non è sempre più sicuro che non sai dove sono le mie lecca lecca! Ah! Eh, Foxy! Ah, sì, certo! Per esempio... Sento qualcosa! E le sorelli? E' il momento di farmi la piastra! Ehi, paliziotta! Come va? Bene, presi! Dimmi! Eh, tutto a posto, tutto a posto! Ero qui che passavo! Ero qui che passavo! E' un certo punto! Stop! Eh, 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 eh! Allora... Per quanto riguarda la pausa challenge di prima... Oh! Ci stanno bruciando i capelli! Sì! Rimarrai qui per un'altra mezz'ora! Cresi! Cresi! Ci fai da qui! I capelli! Aia! Adesso basta! Ehi, Cresi! Ehi, Foxy! Ma prima della giornata! Tutto bene! Sì! Ti volevo parlare! Ma non è che te la sei presa per la pausa di prima? No! Io ho preso! Un attimo che mi è causato! Sì! Vai tra i due minuti! Pausa! Poliziotta! Vieni qui! Dimmi Foxy! Aaaaaah! Non sta bene! Ahahah! Grazie! Ma come può farmi l'altra? Ma non ti vergogli! Non è colpa mia! Aspetta che non vedo! No! Ma non è colpa mia! No! 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 Ehi! Foxy! Che stai facendo! Foxy! Foxy! Si che la doccia! Ah! Stai facendo la doccia! Foxy! Faora! Fortuna tua! Che qui Ho un bel telecomandino! Ah? Ma ti ecco si? Si! ح! E adesso mettiamo l'acqua agghiacciata, tutto al minimo, sshh, sbloccavi, si certo, come procede lì Foxy, eh, si, sbloccavi, perché? Ah, si, buona doccia amico mio, prima mi sono dovuto lavare con l'acqua fredda per colpa di quello stupido, si, si, la poliziotta sono qua dentro, ho in mente di fargli lo scherzo dell'anno, sapete benissimo a cosa serve questo, bene, se clicchiamo al pulsato. Dè, praticamente possiamo stoppare la dè, ora entrerò, mentre li saranno per baciare, li farò bloccare e mi metterò in mezzo, vabbè, andiamo. Poliziotta, è veramente bellissimo, perché ho un bacio, stopp! Foxy, stai facendo, Foxy! Poliziotta, sono sicuro che adesso non ci rispermerà più poliziotta, davvero? Riprendiamo! Questa pausa challenge sembra non finire più, amici, cavolo, a proposito, vi ricordo di iscrivervi al canale, altrimenti vi pauso, è molto importante, anche perché escono nuovi video ogni giorno, cavolo, continua da più di 20 ore, ma nessuno vuole bollare, anzi, sapete cosa facciamo? Non ve lo aspetterete, pausa! Grazie a tutti!